Hai preso le sberre da ciupo motini, il Bayern? Ho preso due gol, dai! No, 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 il Bayern ti ha insegnato, l'hai detto anche tu, il Bayern insegna calcio, hai insegnato calcio con le riserve, con le riserve. Un Inter così, un Inter così, a me non spaventa. È colpa della dirigenza che ha fatto gli acquisti insensati. Avere una panchina senza senso, una panchina, mi dici, vieni in Bellanova. E invece tu quegli acquisti che hai fatto dove sei? Beh, sono tutti in interneria, ma devono tornare. Avere una panchina senza senso, una panchina senza senso,